Ciao ragazzi, ho ancora una penna in tasca, prima ero in ufficio, adesso non ho più voglia di lavorare, quindi presentiamo tutte le tavole Capita 2020 e 2021, modello per modello. Diamoci un'occhio. Se non conoscete Scott Stevens, non lo so, vorrei dirvi qualcosa di brutto, ma poi i bandi YouTube fanno dei casini. Almeno andate a guardarvi qualche suo video. Questa è la sua arma totale, lui praticamente riesce a gibbare, pressare e fare trick su qualsiasi cosa. Ha una creatività fuori dal comune e la sua tavola rispecchia assolutamente il suo stile. Super soft, però con inserti in fibra di lino per renderla comunque bella reattiva, con ottimi appoggi sulle punte e sulle code, per uscire dai press e buttarsi nel press dopo, nel trick dopo. Profilo flat to rocker, quindi piatto centrale rocker in punte e coda, sensazione super skate, tra l'altro lui anche in skate ci macina di brutto, quindi ha cercato di creare la stessa sensazione su una tavola da snowball. Inserti in sughero sotto gli attacchi per avere una grandissima ammortizzazione dei colpi. Se girate principalmente su strutture artificiali e se vi piace cazzeggiare su ogni metro di pista, voi fatevi questa, i disegni li ha fatti lui, tra l'altro, c'è oltre a girare grossi snowboarder, disegna anche da Dio. E' bella, compratevelo. Se la recensione di questa tavola vi è piaciuta, ma vi è rimasta qualche altra domanda da fare, potete farcela qua sotto nei commenti, sui social, oppure chiamare il negozio. Boom!